E ora andiamo in Germania, nel Burgenlandkreis. Il duomo della città di Nürnberg è stato eletto patrimonio culturale dell'UNESCO. Sarà vero che questa Toscana può fare concorrenza alla nostra? Non so di andartene, ma scusami una cosa, ma fatterà la Toscana del nord di andare. Sei testardo come tuo padre! Ciao mamma! Dopo sei sei che sei la storia da sei. Che vero che mi cerca. Il momento è avuto il mondo stati di Sìquì! Sì sì, noi del sud parliamo a voce alta. Sì sì, noi del sud facciamo discussioni in posta. Siamo allergici alle strisce di sotto. Mamma, se tu potessi solo qui saremmo, è un po' grosso! E poi ho trovato mamma, in una bellezza, come se fosse non di questa merda. Mamma, questa passione è un solo riuscito! Ma, questa passione è successiva, mamma! La scuola è successiva! Mamma, se tu, è proprio un po' grosso!